allora buon dia a tutti oggi già sapete che dobbiamo fare un po di esercizi sulle simulazioni quindi sia terminare quello precedente che iniziarne svolgerne uno nuovo volevo solo guardare insieme a voi rapidamente il calendario che mi sono messo a compilare tutte le lezioni che mancano fino ad arrivare alla fine del corso per dirvi due cose la prima è che da adesso in avanti praticamente faremo solamente più temi di esame quindi già iniziamo chiaramente questa settimana un pochino la prossima saranno ancora un pochino più focalizzate sulle simulazioni che sono un argomento nuovo ma poi essenzialmente gli esercizi che faremo in aula saranno da questo momento in avanti tutti i presi dai temi di esami degli anni precedenti quindi se per caso ce n'è qualcuno che avete visto vi stuzzica fateci sapere e nello sceglielo magari risolviamo quello che vi serve nel frattempo le soluzioni le pubblicheremo su quella organizzazione GitHub che si chiama TDP Esami via via che li svolgiamo li creiamo nuovi progetti in modo che siano anche poi facili da vedere questa è la prima cosa la seconda cosa è che l'ultima esercizione di laboratorio che sarà quella del 13 giugno faremo una sorta di simulazione di esame quindi cercheremo di svolgerlo esattamente come si svolgerebbe l'esame quindi diciamo cercherete di svolgerlo esattamente come l'esame quindi farlo da soli essenzialmente e non in gruppetti e provare a rispettare i tempi noi prepareremo un testo che sarà sulla falsa riga del testo dell'esame così vi riuscite a misurare e la terza cosa che per loro è più importante usare i PC del laboratorio allora già da adesso so che tutti trovano comodo lavorare sul proprio computer però già da adesso vi suggerisco di usare il più possibile i computer del laboratorio perché saranno quelli su cui si svolgerà l'esame se ci sono problemi di configurazione saltano fuori prima e non il giorno dell'esame se ci sono problemi di Amazon dimenticato la password salta fuori prima e non il giorno dell'esame dove è installato Eclipse, qual è la password database sono tutti problemi che se li risolvete sono stupidaggini chiaramente che però risolte prima rimangono a livello di stupidaggine il giorno dell'esame invece si trasformano in ansia e stress quindi cerchiamo di evitarlo tutti insieme quindi sicuramente la simulazione del 13 non vi lasciamo usare il vostro computer ma già le due prossime eserciazioni il suggerimento è quello appunto di usare il computer del laboratorio così anche vi abituate a trasportare il progetto da un computer all'altro e così via va bene queste erano le due annotazioni sul calendario visto che si avvicina la fine del corso voi sapete che avete anche ricevuto i questionari di fine corso quelli del comitato paralettico per la didattica la CPD, i cosiddetti quindi magari qualcuno è già iniziato a compilare qualcun altro no io vi rubo solo un minuto per dirvi che per noi sono uno strumento cioè mi interessa abbastanza poco che cosa ne faccia Politecnico di questi dati essenzialmente non ne fa forse quasi nulla per noi sono uno strumento importante per riuscire a capire cosa funziona, cosa non funziona cosa migliorare eccetera del corso e quindi vi chiederei uno di compilarli così facciamo tutti bella figura che abbiamo una percentuale alta ma soprattutto di compilare la parte di risposte libere perché voi diate il voto 3 o 4 o 5 alla fine vedo magari che alcune cose sono andate meglio che non altre ma poi non so perché quindi spendete quei 10 secondi in più per scrivere qualcosa un commento, un suggerimento, una critica come ovviamente sono le più importanti le critiche perché sono quelle che ti permettono poi di affrontare eventuali problemi nelle parti di testo libero noi sicuramente le leggiamo tutte e le analizziamo e cerchiamo di tenerne conto ovviamente non per voi per i vostri compagni dell'anno prossimo però così funziona la cosa e se qualcuno avesse invece delle idee in più, dei suggerimenti, delle critiche liberamente ne possiamo parlare se vi sentite in soggezione dopo l'esame se no in qualunque momento non c'è problema in particolare quali sono le cose che mi interessa di più sapere vabbè io ho sempre quattro domande in testa se ci sono degli argomenti su cui su cui sarebbe necessario utile o necessario dedicare più tempo vuoi perché interessanti vuoi perché difficili ovviamente se aggiungi qualcosa devi togliere qualcos'altro quindi mi è utile capire se ci sono degli argomenti che su cui si potrebbe ridurre il tempo dedicato perché magari sono più facili di quanto non sembra noi per cui va bene abbiamo capito si capisce in fretta o perché sono già magari trattati in altri corsi e quindi è inutile ripetere queste cose già quest'anno abbiamo cercato di fare qualche aggiustamento grazie appunto al feedback di un paio di studenti dell'anno scorso però è tutto sempre in fase ovviamente di di adeguamento e poi l'altra domanda è ovviamente sulla l'organizzazione didattica in generale cioè come abbiamo impostato il corso in termini di divisione tra lezioni laboratorio video lezioni github e cose varie sono strumenti modalità di lavoro essenzialmente che abbiamo adottato nel corso che è abbastanza complicata è fatto di tanti ingredienti che poco per volta siamo riusciti a rodare però magari voi avete da dire la vostra essenzialmente poi ci sarebbe una quarta domanda che però mi metto tra parentesi che sarebbero le modalità d'esame cioè l'esame svolto in laboratorio in questo modo la metto tra parentesi perché non avendolo voi ancora fatto potete solamente sentire pensare immaginare se avete qualcosa da dire in merito sicuramente benvenuto purtroppo non si riescono a avere facilmente dei feedback post esame perché il strumento cioè il questionario viene fatto prima però chiaramente l'esame è una parte il modo in cui è strutturato l'esame impatta molto il modo in cui è strutturato il corso e viceversa quindi sono cose abbastanza incendibili dal punto di vista nostro della progettazione del corso quindi tanto dovete fare questa cosa se ci spendete 30 secondi e provando mentalmente a rispondere a queste domande vi ringrazio già in anticipo e così riusciamo anche noi a studiare qual è la vostra opinione ovviamente se avete altro da dire siete liberissimi di dirlo ok adesso veniamo alle cose più serie no più serie dell'esame non c'è niente all'esercizio diciamo allora ci eravamo lasciati settimana scorsa su questo esercizio emergency che effettivamente è un caso abbastanza complesso di simulazione siamo partiti subito a vedere come secondo esercizio uno un po' complicato così come sempre come pretesto di vedere vari casi varie cose che possono succedere abbiamo preso un esercizio in cui succede praticamente tutto e quindi dopo questo gli altri dovrebbero essere in discesa ci eravamo lasciati cosa avevamo fatto aveva il metro init che era praticamente completo in cui si inizializzava la coda degli eventi e poi avevamo iniziato a implementare alcuni tipi di eventi cioè l'arrivo di un nuovo paziente che altro non faceva che mettersi predisporsi per il triage cinque minuti dopo il triage vero e proprio in cui il paziente viene associato uno stato di colore e sulla base dello stato di colore viene impostato un time out su quando lui dovrà trasformare il proprio stato a seconda del colore che aveva e del tempo che è passato poi c'erano queste righe che servivano semplicemente per ruotare alternare lo stato di colore che viene assegnato a ciascun paziente e poi ragionavamo quando finiva il tempo della lezione ragionavamo su sull'ingresso e uscita nello studio del paziente del dottore del medico allora abbiamo detto l'uscita è un evento facile nel senso che quando un paziente esce è curato appunto ma nel momento in cui un paziente esce lo studio si libera e pertanto è possibile chiamare un nuovo paziente quindi nel gestire l'evento uscita dobbiamo decidere quale è il prossimo paziente che entrerà e schedulare l'evento di chiamata in questo modo creiamo una concatenazione di eventi per cui ogni volta che c'è un'uscita ci sarà subito un ingresso e questo gestisce ragionavamo la volta scorsa l'avvicendarsi normale dei pazienti tranne in due casi un caso è l'inizio della giornata della mattina per cui i primi che entrano entrano punto non entrano in conseguenza dell'uscita di qualcun altro e due il caso che può verificarsi raramente con questi dati ma nessuno può dirlo che a un certo punto gli studi siano vuoti sia almeno uno studio vuoto e quando nel senso che esce il paziente e quando il paziente esce non c'è nessuno in sala d'attesa allora in quel caso ovviamente non posso chiamare nessuno ma quello studio rimane libero allora prima o poi bisognerà poi chiamare qualcuno in quello studio allora questi due momenti dobbiamo gestire a parte con un meccanismo separato il caso generale è quando esce uno chiamo il prossimo allora cominciamo a implementare questo quando esce uno chiamo il prossimo avevamo già detto che quando esce uno significa andare a registrare l'uscita di quel paziente come faccio a registrare che il paziente è uscito quindi ho il mio evento e è un evento di tipo uscita beh quel paziente a quel paziente modifico lo stato quindi sarà e.getpaziente getpaziente punto setstato e dirò che a questo punto è out è uscito si chiamava stato paziente l'enumerazione in cui c'erano gli stati punto out quindi quel paziente non è più in cura ma è uscito e tengo traccia del fatto che ho curato un paziente in più c'erano la variabile paziente curati vi ricordate che dobbiamo incrementare e quindi questo studio è libero allora io una variabile che non ho ancora nel mio simulatore non ho ancora modellato gli studi il fatto che ci sia più di uno studio se ne possano essere fino a tre o NS che è la costante con cui modelliamo gli studi allora ovviamente dipende da quanti studi ci sono nel momento in cui un paziente esce si libererà uno studio quindi ci saranno da tre studi occupati saranno solamente più due quindi ho bisogno di una variabile che sappia in ogni momento quanti studi sono occupati o liberi questo non ci avevamo ancora pensato ma è facile da aggiungere perché nel mio modello del mondo ho l'elenco dei pazienti in generale ma ho anche gli studi liberi occupati mi piace di più ricordarmi quelli occupati e quindi questi studi occupati in fase di inizializzazione lo metto a zero perché al mattino nessuno studio è occupato quando un utente entra nello studio lo incrementerò e quando invece l'utente esce dallo studio lo decrementerò così in ogni momento so e se mi chiedessero le statistiche di mediamente quanti studi sono occupati ho la variabile che mi può permettere di tenere le tracce quindi nell'evento di uscita oltre a dire che ho curato un paziente in più dico che gli studi occupati sono uno in meno e quindi c'è un paziente c'è uno studio libero e posso chiamare un paziente nuovo un paziente tra quelli che sono attualmente in uno stato di weight weight giallo weight bianco o weight rosso devo però chiamare il paziente che è la priorità più alta in questo momento allora potrei fare due cose a questo punto potrei andare a vedere l'elenco di tutti i pazienti che però comprendono quelli che devono ancora arrivare arriveranno in futuro quelli che sono già usciti quelli che sono morti eccetera eccetera selezionare quelli che sono in attesa e tra questi trovare il primo che deve entrare sulla base delle nostre regole di priorità posso farlo così oppure posso appoggiarmi su una struttura dati che faccia già lei questo lavoro io posso crearmi una visto che l'abbiamo imparata è una coda prioritaria che gestisce la lista d'attesa sulla base delle priorità e quindi definirò questa coda prioritaria con un criterio di ordinamento specifico che tiene conto dei codici di colore quindi non è solamente la lista dei pazienti che sono tutti quelli che sto simulando ma è una struttura dati in più non è la coda degli eventi è semplicemente una coda prioritaria di pazienti ordinati per priorità faccio fare alla coda prioritaria alla struttura di coda prioritaria il lavoro che dovrei fare io di trovare chi è il prossimo ok quindi delego scrivo meno codice questo vuol dire che nel mio modello del mondo ancora c'è la lista d'attesa che è una coda di paziente fermiamo l'attesa non sono pazienti in più o diversi sono un sotto insieme dei pazienti il sotto insieme che ha già passato il triage e non è ancora entrato in studio che vengono registrati anche lì quindi questa nuova priority queue nel metodo init me lo devo inizializzare ovviamente quindi abbiamo dove inizializzo i pazienti posso inizializzare anche di spunto la lista d'attesa new priority queue attenzione che new priority queue si comporta la coda prioritaria e ordina gli elementi sulla base del loro ordine naturale devo dire la priority queue in che modo ordinarli adesso la classe paziente non è comparable cioè non implementa l'interfaccia comparable quindi non ha un metodo compare to quindi nel momento in cui cercassi di inserire un elemento paziente dentro quella struttura dati avrei un errore allora io posso aggiungere il metodo compare to e specificare che implemento l'interfaccia comparable in questo metodo oppure visto che è un criterio di ordinamento un po' particolare non detto che sia quello diciamo così il paziente non ha un ordine naturale possiamo definire una classe a parte sapete che ci sono i due modi di ordinare visto che l'altra volta abbiamo fatto il comparable usiamo un comparator allora vuol dire che qua possiamo aggiungere una classe che sia un paziente comparator che dice che specifica il criterio di ordinamento che implementa l'interfaccia comparator ovviamente quindi quindi una classe che implementi comparator di non ti qualunque ma paziente una classe che è in grado di confrontare due oggetti tipo paziente e deve implementare semplicemente un metodo compare paziente 1 paziente 2 deve restituire un numero negativo se il paziente l'argomento 0 deve passare prima deve essere curato prima del paziente 1 un numero positivo se invece il paziente 1 deve essere curato no positivo sì se il paziente 1 deve essere curato prima quindi è minore tra virgolette il nostro ordinamento viene prima e 0 se ha la nostra priorità fatemi chiamare paziente 1 paziente 2 anziché argomento che paziente 2 allora noi abbiamo due casi c'è un primo caso in cui allora qual è la regola la regola è che se io ho la priorità maggiore ho un codice colore più urgente di te passo prima tra noi due se invece abbiamo lo stesso codice colore guardiamo l'ora di arrivo allora è facile controllare prima se hai lo stesso colore paziente paziente 1 punto get stato paziente è uguale a paziente 2 punto get stato paziente allora abbiamo lo stesso colore quindi passa prima che è arrivato prima quindi return deleghiamo al comparatore dell'ora paziente 1 punto get ora di arrivo compare to paziente 2 punto get ora di arrivo se abbiamo lo stesso colore l'ordine di uscita è uguale all'ordine di arrivo quindi andiamo a confrontare l'ora di arrivo ora di arrivo che avevamo inserito l'abbiamo inserita nel simulatore o l'abbiamo solo parlato nuovo paziente sì c'era l'ordine di arrivo qua l'abbiamo inserita quando abbiamo creato l'oggetto paziente e va bene altrimenti vuol dire che abbiamo due colori diversi allora se io sono rosso passo io ma qui si può scrivere in certo modo diversi sto codice la prima cosa che mi viene in mente è partiamo da poiché è uno stato diverso se io sono rosso di sicuro tu non sei rosso e allora devo passare io quindi se paziente 1 get stato è uguale a stato paziente punto red e allora tocca a lui quindi meno 1 devo situare un numero negativo perché paziente 1 è quello che ha la priorità se no può darsi che paziente 2 sia rosso allora in quel caso ritorno più 1 perché il secondo è maggiore del primo se non capita nessuno di queste due allora sicuramente ne ho uno giallo e uno bianco perché il rosso non è nessuno di due uguali non sono e quindi sono uno giallo e uno bianco quindi se è giallo il primo ritorno meno 1 se è giallo il secondo ritorno più 1 quindi copio questa roba qua andando a controllare gli yellow solamente se nessuno di due era red e questo dovrebbe coprire tutti i casi che mi interessano adesso il compilatore non è ancora contento perché mi dice sì va bene ma se tutti questi if falliscono devi farmi il ritorno di qualche cosa no? in realtà no nel senso che se tutti questi if falliscono c'è qualcosa che non va non deve succedere no? in realtà tecnicamente potrebbe succedere perché chi mi dice che paziente 1 punto get stato non sia out o new e l'oggetto paziente può avere quello stato noi sappiamo che non andremo mai a confrontarli nella priorità di chiuse se non sono in uno di questi tre stati però ovviamente il compilatore non può saperlo quindi no se fossero tutti due bianchi li ho catturati qua quindi sono sicuramente diversi se passo il primo il primo confronto quindi io qua ci metto una bella eccezione per dire boh se ho sbagliato qualcosa se sto cercando di confrontare i pazienti che non sono di stra attesa non posso confrontarli non ha senso confrontarli no? un bel legal argument in cui dico stato paziente non atteso non accettabile e faccio vedere qual è lo stato di paziente 1 get stato e rispetto a paziente 2 punto get stato quindi se non esco da uno di questi confronti c'è qualcosa che è andato storto a monte prima perché sto confrontando due pazienti che non avrei dovuto confrontare a questo comparatore è quello che mi permette di personalizzare la coda prioritaria la lista d'attesa quindi quando io ho creato la lista d'attesa creo una coda prioritaria che lavora sul comparatore la classe prioritaria come costruttore riceve può ricevere un comparatore che ovviamente confronta oggetti del tipo degli oggetti che sono contenuti nella lista nella coda quindi con questo semplice comparatore io ho risolto la gestione della lista d'attesa per cui quando c'era scritto qui decidere chi deve essere chiamato beh chi deve essere chiamato sarà il primo della lista d'attesa quindi faccio un peak o un poll nella lista d'attesa e ottengo l'oggetto paziente che stava aspettando e quello tra tutti quello che stanno aspettando quello che ha il diritto di passare per primo ammesso che ci sia perché magari la lista d'attesa è vuota in quel momento non c'è nessuno in attesa allora possiamo vedere se c'è qualcuno in lista d'attesa il metodo peak è come poll nel senso che va a vedere il primo elemento ma a differenza di poll che lo toglie dalla lista lo lascia lì io voglio sapere se c'è qualcuno in lista e chi per sicurezza fino a quando non entro non faccio la chiamata non tolgo dalla lista d'attesa e allora mi chiedo c'è qualcuno se paziente è diverso da null posso chiamarlo altrimenti non c'è solo da chiamare e quindi ho finito cioè l'evento uscita se non c'è nessuno in lista d'attesa da chiamare non ha nient'altro da fare se invece ha qualcuno da chiamare sappiamo anche chi è questo pass paziente e quindi generiamo l'evento di chiamata per questo paziente che avevamo già scritto qua quindi aggiungo la coda un nuovo evento che corrisponde a cosa corrisponde alla chiamata quindi l'ora è subito appena uscito subito può entrare quello dopo quindi l'ora a cui schedulare l'evento è la stessa ora dell'evento attuale e quindi tipicamente andrà a finire in testa la coda prioritaria degli eventi subito il prossimo evento che tirano fuori sarà molto probabilmente lui a meno che non ci sia per coincidenza un altro evento alla stessa ora poi il secondo parametro è il tipo di evento event type che è sarà chiamata e il paziente da chiamare è questo qua che al momento è il primo nella lista d'attesa giusto? e chi li mette nella lista d'attesa a questi pazienti? perché noi qua li stiamo togliendo o meno li stiamo leggendo li mette il triage cioè nel momento in cui io ti assegno uno stato white oppure yellow oppure red ti metto in lista d'attesa ti metto in coda quindi anche qua e punto get paziente ricordate che quando abbiamo fatto il carotriage abbiamo detto io non riesco ancora a schedulare l'evento di chiamata perché non so quando verrà perché dipende da chi alto arriva se è qualcuno che mi passa davanti o no però perlomeno possiamo metterci in lista d'attesa in modo che quando poi verrà una chiamata e sarà il mio turno verrò chiamato quindi il triage assegno lo stato e lo metto in lista d'attesa nella sua priorità gli altri che arriveranno ciascuno farà il triage e verrà messo in lista d'attesa nella posizione più opportuna quindi avrò davanti tutti i rossi poi tutti i gialli poi tutti i bianchi quando qualcuno esce da uno studio se c'è almeno una persona in lista d'attesa questa persona viene accodata per la chiamata immediata e quindi finalmente possiamo arrivare al metodo più interessante che è quello della chiamata a questo punto quando arriva un evento di chiamata l'evento mi dice devi chiamare questo paziente e a questo punto questo paziente lo metti in uno studio e lo togli dalla lista d'attesa e gli cambi lo stato dicendo che adesso è in cura quindi dico adesso tu caro paziente tu vai via dalla lista d'attesa l'evento mi dice qual è il paziente che viene chiamato che ovviamente era una lista d'attesa lo tolgo dico che lo studio a questo punto è occupato ne ho occupato uno in più e gli posso cambiare lo stato perché adesso dico che il paziente non è più in attesa non è più white yellow o red o quello che sia ma sarà treating sei in fase di cura ti stanno curando poi dovrò a questo punto schedulare l'uscita tu sei rientrato aggiungiamo l'evento che dice quando uscirai ok allora quando uscirai è semplicemente il tempo attuale più una costante che dipende dal codice colore che avevi quindi questa cosa la devo fare prima di fare il set stato perché altrimenti mi perdo il codice colore vecchio vabbè quindi avrò un semplicissimo in funzione il colore che avevi e qui lo stato è uno di questi tre case white se eri bianco ti accodo con un tempo dato dalla tempo di cura dei bianchi quindi iq.add new event tempo tempo attuale e punto get ora più tanti minuti plus minutes pari a duration white è la costante che ci dice quanto dura l'operazione di cura di un bianco ah poi aspetta non ho finito questo è l'ora poi secondo parametro il tipo di evento uscita e l'altro parametro è il paziente quindi andiamo capo qua così si legge break quindi se il paziente era bianco schedola l'uscita di questo paziente dopo il duration white se il paziente e qui lo coppio tre volte era giallo o era rosso schedola l'uscita dopo giallo o rosso lo copia in colla mi piace poco magari converrebbe se la cosa fosse un pochino più complessa generalizzarla facendo una piccola mappa che dallo stato mi dà il tempo e quindi dopo che ho accodato l'evento di uscita posso aggiornare lo stato paziente mettendolo in treating tanto non mi serve a questo punto non mi serve più il colore che aveva prima quindi ho tolgo l'amministra attesa occupo lo studio preparo l'uscita gli cambio lo stato direi che abbiamo fatto tutto l'amministra l'amministra punto ci rimangono gli eventi di time out ma questi sono facili perché significa semplicemente cambiare cambiare lo stato del paziente e mettere il time out nuovo time out bianco allora se io sono bianco e scatta il mio time out come diceva la regola vado a casa ero in lista d'attesa mi sono stufato vado a casa quindi lo metterò in stato out e conterò gli abbandoni in più però attenzione quando scatta questo evento io devo controllare che sia ancora in lista d'attesa perché io ho settato questo time out quando il mio paziente è uscito dal triage e quindi ho detto guarda tu hai l'etichetta bianca vai in lista d'attesa e questo evento è stato programmato per due ore dopo se ricordo bene nel frattempo magari mezz'ora dopo dieci minuti dopo tre quarti di ora dopo si è stato chiamato curato è uscito quindi quell'evento che dice tra due ore ti stufi e vai a casa magari quando scatta quell'evento tu non sei già più lì può capitare uno dei due eventi cioè la chiamata o il time out capiterà prima allora nel momento in cui capita uno di questi due eventi visto che il paziente è solo uno l'altro evento non deve più avere effetto abbiamo due modi di farlo o nel momento in cui faccio la chiamata vado a cercare se nella lista degli eventi c'è l'evento di time out e lo cancello oppure più semplicemente quando mi arriva il time out mi chiedo ma sono ancora nella lista d'attesa se no ignoro l'evento quindi prima di fare qualunque cosa verifico di essere ancora nello stato white solamente se sono ancora white allora davvero scatta il time out altrimenti non faccio nulla davvero scatta il time out vuol dire ero white quindi ero in una lista d'attesa mi tolgo dalla lista d'attesa e conto gli abbandoni e metto il paziente ad out quindi attesa punto remove di e punto get paziente remove è lo stesso metodo che usiamo per la lista ti do un oggetto lui cerca quell'oggetto nella lista e lo cancella anche se non è il primo non importa una coda prioritaria è pur sempre una lista implementa anche lei list quindi continua a funzionare quindi dovunque io sia nella coda mi cancella aggiorna il numero di pazienti abbandonati aggiorna lo stato del paziente mettendolo a stato paziente punto out no red out e basta perché non c'è più nessun evento nuovo da schedulare una cosa molto simile capita nel rosso quindi copio in collo le stesse istruzioni esattamente la stessa cosa nel rosso con la differenza che non vado in out ma vado in morto quindi qua ovviamente devo controllare non con white ma con red se sono ancora rosso togli la pulcada di paziente incrementa i pazienti morti e lo stato del paziente ho uno stato morto no lo chiamavano sempre out ah no dead c'è dead quindi se il paziente è nello stato red lo rimuoro la lista d'attese incremento i morti e setto morto il paziente l'altro time out invece c'è un pelino di lavoro in più da fare perché quando scatta il time out di un giallo devo passarlo rosso e passandolo rosso imposterò il time out di rosso quindi qui è stessa cosa se il paziente quando mi arriva il time out del giallo è ancora giallo 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 punto devo farlo diventare rosso quindi fondamentalmente l'operazione principale che devo fare è settare lo stato a red e qui vado a copiare ciò che facevo in triage accodare l'evento di time out red per questo paziente sei diventato red e quindi ti imposto l'ora della morte sperando che però tu venga chiamato prima quindi qua torno giù nel time out yellow dopo che ti ho messo a rosso aggiungo un evento all'ora attuale più il time out red l'evento è il time out red che è quello qua sotto di questo paziente quindi è vero che mi sono aggravato ma nello stesso tempo avrò acquisito una priorità maggiore nella lista d'attesa anzi non ancora perché come dicevamo la priorità di TQ inserisce l'elemento nel punto giusto andando a vedere la priorità che ha al lato dell'inserimento quindi uno che era giallo gli ho cambiato l'attributo l'ho fatto diventare rosso alla priorità di TQ questo nessuno gli ha detto e quindi lui rimane ancora come posizione in coda la stessa in cui era quando era giallo allora per fare cose per bene io devo togliere l'elemento della coda farlo diventare rosso e reinserirlo nella coda in modo che quando lo reinserisco prenda la sua posizione giusta non possiamo mai quando gli elementi sono in assoluto dati ordinata andare a modificare i valori sulla base del quale l'ordinamento viene fatto non possiamo possiamo ma poi non lamentiamoci se il programma non funziona quindi sembra inutile lo tolgo e lo rimetto ma in realtà ciò che rimetto è leggermente diverso da quello che ho tolto quindi attesa punto remove di e punto get paziente e subito dopo gli cambio il colore e subito dopo attesa punto add di e punto get paziente perché adesso è rosso quindi ho il paziente che era giallo lo tolgo essendo giallo lo tolgo lo faccio diventare rosso lo inserisco come rosso qui il testo non mi diceva che devo di tenere conto di nessuna statistica quindi non devo incrementare nulla il numero di studi occupati non cambia perché semplicemente una variazione all'interno della lista d'attesa e quindi non devo fare altro direi in questo caso quindi la macchinetta adesso va avanti tranne quando gli studi sono vuoti allora cosa possiamo fare per gestire anche questi casi potrei avere un evento periodico che ogni 5 minuti ogni 10 minuti controlla una condizione molto semplice se almeno uno studio è libero e c'è almeno un paziente in attesa se questa condizione è verificata allora chiamano quel paziente se no non fa nulla e poi questo evento si autoprogramma cioè io lo programmo il primo al tempo zero e poi lui si programmerà da solo cioè ogni volta che questo evento scatta rischedula se stesso dopo un certo tempo in questo momento io potrei anche trattare il tempo zero come caso particolare no? cioè i primi 3 potrei trattarlo come caso particolare del triage dico senti ma è vero che ti è dato un codice colore ma in questo momento lo studio è vuoto quindi vai direttamente allo studio ti faccio bypassare la lista d'attesa non serve che tu vada in attesa però lo vedo complicato da gestire in tutte le sue case particolari perché se tu sei bianco uno studio è libero però magari allo stesso tempo c'è uno rosso che arriva dovrebbe passare lui cioè no? farlo giusto lo vedo pericoloso preferisco avere un meccanismo a parte separato che dice vabbè se c'è uno studio libero e qualcuno in attesa entra e quindi lo possiamo aggiungere come tipo di evento un tipo di evento come lo possiamo chiamare un un polling qualcosa che periodicamente vada a interrogare allo stato del sistema questo evento periodicamente verifica se ci sono studi liberi e pazienti in attesa e li fa entrare ovviamente allora per poter gestire questo mi definisco una mia costante di tempo che è la frequenza di polling anzi il periodo di polling 5 minuti sono tutti moltiplici 5 gli altri valori quindi è inutile andare più veloci di 5 minuti e genero il primo evento direttamente in initializzazione in initializzazione ho messo i vari arrivi degli utenti ma davanti a tutti o dopo tutti uguale dipende ancora farà la cosa prioritaria aggiungo un evento al tempo 0 quindi al tempo ti inizio l'event type è polling e paziente non c'è è un evento senza paziente e allora in coda tutto il mio case aggiungerò ancora un ultimo case no aspetta ho sbagliato le graffe sono qua ok in caso di polling la prima cosa che devo fare è rischedularmi prima in realtà è l'ultima ma la cosa da non dimenticare di sicuro e appunto get ora punto plus minutes di t polling virgola event type no qua event type punto polling null quindi ogni volta che questo evento viene consumato ne predispone uno nuovo tra 5 minuti e ogni volta che scatta va a vedere se il numero di studi occupati è minore DNS se ci fate caso questa variabile di studi occupati non l'abbiamo mai usata finora se l'abbiamo incrementata decrementata non l'abbiamo mai controllato quanto valesse solo qua la controlliamo se ho il numero di studi occupati è minore del numero di studi totali che ho e dentro la lista di attesa ci sono isempti non è vuota in realtà perché non mi interessa eh no sì e la lista di attesa non è vuota allora chiamo il primo di strattese quindi chiamare in realtà la possiamo copiare dall'uscita la chiamata è questo sono queste istruzioni qua che gestiscono la chiamata quindi sarà paziente vado a prendere eh qui lo chiamo paziente 2 perché l'avevo già chiamata pass sopra è diverso da null di sicuro perché ho appena controllato che non si è empty quindi questo if lo posso togliere quindi se ho uno studio libero e ho qualcuno in attesa guardo chi c'è in posizione principale nella lista di attesa e ne schedulo la chiamata per subito per il tempo adesso e poi torno a dormire per i prossimi cinque minuti quindi nel caso per questo meccanismo uno studio non rimarrà vuoto per più di cinque minuti ok se invece i studi occupati sono tutti come capiterà la maggior parte del tempo questo metodo non fa nulla questo evento non fa nulla a questo punto è finito sembra salvo ah no in realtà c'era una cosa che abbiamo dimenticato lunedì scorso o settimana scorsa se non ricordo quando fosse la data e me ne sono accorto riguardando l'esercizio che quando abbiamo nella procedura RINIT abbiamo creato l'oggetto paziente abbiamo creato gli eventi ma dettaglio insignificante non abbiamo messo gli eventi nella coda e quindi tutto questo foro non serviva a niente quindi dobbiamo solo ricordarci ho creato l'evento aggiungi e alla coda cioè no li creavo e rimanevano lì morivano lì ok quindi veloce check gli studi lo studio quando viene occupato nella chiamata quando viene liberato all'uscita la lista d'attesa quando viene messo un paziente in lista d'attesa alla fine del triage attesa.add quando viene tolto dalla lista d'attesa alla chiamata eccezione nel caso di timeout il paziente viene comunque rimosto dalla lista d'attesa nel caso strano nel timeout quindi nel timeout white e red ho un effetto netto di meno uno sulla lista d'attesa sul timeout yellow ho un meno uno più uno ha un effetto netto pari a zero cioè ho sempre lo stesso numero di pazienti quindi vediamo se ci quadrano che questo modello del mondo avevamo chiamato lo stato del sistema cambi nei momenti giusti e questa lista pazienti è fissa questo stato di triage è semplicemente il meccanismo a rotazione ma questi due invece li abbiamo gestiti spero correttamente oggi per poter usare questa cosa devo almeno però creare dei set dei getter per queste tre variabili quindi creiamo un getter per pazienti curati questo qui non mi piace facciamo un altro metodo se no il nostro test model potrà lanciare la simulazione ma allora cosa dobbiamo fare in teoria i parametri della simulazione possono essere modificati quindi potremmo definire dei setter su tutti questi duration numero di pazienti da simulare numero di studi e dei getter sui risultati della simulazione pazienti abbandonati pazienti curati pazienti morti poi pazienti più stato triage roba interna studi occupati all'interno il tasso di arrivo può essere impostato il tempo di fine il tempo di inizio se vogliamo possono essere impostati qui generiamo il tempo di polling no ma sì e i tre time out queste cose qua le mettiamo al fondo da 100 righe siamo passati a 300 in un baleno con tutti questi metodi mentre facevo questo mi sono accorto dalle iconcine che c'erano che avevo dimenticato di rendere privati tutti questi tutti questi poi il giorno che incontro quello che ha deciso che private non deve essere il default in java gli faccio un discorsetto a meno di tanti errori che ci saranno dovrebbe essere completato possiamo provarlo non è detto che funzioni al primo colpo anzi ci posso scommettere quindi possiamo creare il nostro simulatore lo inizializziamo in teoria prima del lini potremmo impostare tutti i parametri che vogliamo lo facciamo andare e alla fine stampiamo le statistiche che sono essenzialmente i pazienti arrivati che pazienti non ci sono curati i pazienti abbandonati e infine i pazienti morti dunque questi qua li abbiamo incrementati nei punti giusti curati ce l'ho sull'uscita allora curati si l'incremento sull'uscita i morti l'incremento sul time out rosso e li abbandonati sul time out bianco ok no stavo guardando scusate questo warning qua che mi dice che pazienti non l'ho usato the value of the patient is not used come non l'ho usato ah no non l'ho usato perché l'ho creato l'ho messo nella lista ma poi in realtà tutto il lavoro l'ho fatto con la con la coda degli eventi vabbè ok vediamo il test simulatore che cosa fa non si è piantato non so se questi valori abbiano senso pazienti curati 45 il simulatore quanti pazienti aveva in tutto numero di pazienti in arrivo 50 proviamo a aumentare un po' la densità della simulazione quindi proviamo a dire che numero di pazienti mettiamo la 200 100 e il tempo di arrivo quant'era adesso come default era 15 mettiamoli 5 e qui qualcosa succede in più perché ho caricato molto di più la giornata e ho curato 73 pazienti 41 ne hanno abbandonato quindi in realtà ne ho 114 più 16 morti fanno 130 probabilmente gli altri a differenza da 200 il nostro simulatore si ferma alle 20 di sera quindi alla fine della simulazione ci sono ancora dei pazienti in coda quindi se davvero il mio pronto soccorso ha questo carico di utenti potrebbe essere utile aumentare il numero di studi mettendone non so 5 no sono aumentati 16 morti ho messo 5 studi sono aumentati i morti qualcosa non va direi non ha un comportamento molto mi aspetterei che aumentando il numero di studi aumentassero i curati diminuissero i morti e gli abbandonati così non è quindi può essere che il dubbio che ho è qua di aver fatto l'ordine giusto più uno meno uno perché ho già passato un quarto d'ora di mal di testa stamattina a pensarci adesso l'ho rifatto può darsi che sia però diciamo che gioca a mio favore l'intervallo e quindi controlla adesso diciamo così il progetto è il 98% completo probabilmente c'è qualcosa che non funziona non so se riesco adesso sul tempo reale ma poi lo correggiamo lo facciamo funzionare in modo anche coerente quindi diamolo per quasi concluso tranne un pochino i debug non di quello non il debug facile da null pointer exception ma il debug del tipo i sbatti li dà ma non mi convincono che è la parte più difficile io sospetto questo ma non ci scommetto nulla no vi voglio solo cominciare a accennare prima di intervallo cosa faremo dopo così potete cominciare a clonarvi il progetto c'è sulla pagina del corso già il link a questo tema d'esame del 23 gennaio 2017 quindi se voi andate qua nel nel registro nella giornata di oggi l'ultima icona che c'è qua avete scritto ancora simulazione o meglio se devo correggerlo da questo testo che ci chiede di lavorare sul dataset country borders l'avete già visto in un laboratorio vero? se non sbaglio sui grafi e a parte il punto 1 che va bene ci metteremo a farlo ma è la costruzione di un grafo nel punto 2 allora il grafo bisogna creare un grafo essenzialmente che rappresenta i confini mondiali l'hanno specificato dall'utente e quindi il grafo che abbia come vertici le nazioni e come arco la viacenza quindi il solito grafo delle nazioni e quello che vogliamo fare è simulare la diffusione di una serie di mille immigrati che vengono inseriti in uno stato iniziale e poi si spostano cioè tu al tempo zero inietti mille persone o 5.000 insomma un parametro mille persone in uno stato a scelta dopodiché a ogni tempo successivo quindi a ogni periodo di simulazione successivo queste persone si spostano con certe regole dice il 50% delle persone diventa stanziale quindi si ferma lì nello stato in cui li ha immessi l'altro 50% si sposta si sposta dividendosi in parti uguali tra gli stati confinanti ovviamente questi che si sposteranno negli stati confinanti in parti uguali a loro volta il 50% rimarranno fermi e gli altri si ripartiranno tra gli stati confinanti compreso quelli da cui provenivano e quindi si ripete così se si estende un po' macchia d'olio tu hai una diciamo così perturbazione di un sistema in un certo punto e da ogni punto questa differenza nella popolazione si propaga agli stati vicini fino a quando ebbè fino a quando la situazione non si stabilizza perché questo è fatto in modo che visto che a ogni passo il numero di persone che si sposta alla metà del passo precedente prima o poi arriviamo a zero e allora non c'è più nulla da simulare questo è l'esercizio che inizieremo a fare dopo l'intervallo adesso possiamo fermarci grazie a tutti grazie a tutti